Tommaso, hai ora la possibilità di rivolgerti direttamente all'ex Ministro del Lavoro Fornero. Ecco, io vorrei rivolgere al Ministro una domanda. Sono stato esodato il 24 febbraio con la legge 23 del 91. Nell'8 luglio 2013 la mia mobilità termina, quindi io sarò a reddito zero. Dal Ministero è stata accolta la mia domanda per quanto riguarda un'eventuale salvaguardia. Mi sono recato all'Inps per sapere qualcosa di più e l'Inps inaspettatamente mi ha risposto non c'entra nulla questa salvaguardia perché siamo noi che decidiamo se lei è salvaguardato o meno. E questo per me è stato un nuovo modo per essere riesodato. Avevo sperato tanto e quando ho conseguito questo documento mi sono in qualche modo rinfrancato. Ora, la domanda che io voglio rivolgere alla dottoressa Fornero è questa. Può l'Inps rispetto a questo rispondere così genericamente ad un lavoratore che ha versato 40 anni di contributi in questo modo? Perché l'8 luglio del 2013 io sarò a reddito zero e volevo sapere da lei che cosa dovrò fare.